Frana a Civiglio e strada chiusa, non si placa la polemica tra i residenti della frazione Comasca e l'amministrazione comunale. Ieri sera in diretta su ETV durobotta e risposta tra un cittadino, residente a Civiglio, e il sindaco di Como Alessandro Rapinese. La frana dello scorso 15 maggio, con la conseguente chiusura di un tratto di via dei Patrioti, sta mettendo a dura prova la pazienza di chi vive a Civiglio, a causa dei percorsi alternativi che allungano i tempi di percorrenza. Le richieste di quanti abitano o lavorano nella frazione colpita dallo smottamento restano sempre le stesse. Maggiori collegamenti, soprattutto in vista di settembre, mese che segna il rientro sui banchi di scuola e la ripresa di gran parte delle attività lavorative. Chiarimenti che arrivano anche alla luce della recente ordinanza del Comune che impone al privato proprietario dell'area nella quale si è verificato lo smottamento di avviare i lavori di messa in sicurezza entro tre mesi e di concluderli entro cinque, quindi a fine novembre, decretando di fatto un'estate e un inizio di autunno ancora difficili sotto il profilo dei collegamenti. Arriba a dire la linea dell'amministrazione ancora una volta il sindaco rapinese. Non è stato perso tempo, ha detto il primo cittadino. Al privato sono state date le tempistiche minime per intervenire. Una navetta di collegamento aggiuntiva, come chiedono i cittadini, dovrebbe pagarla il privato. Noi, come amministrazione, abbiamo intimato al privato di agire in maniera tempestiva. La strada, concluso rapinese, riaprirà soltanto quando le condizioni di sicurezza saranno ripristinate e la legge lo consentirà.